Ciao a tutti ragazzi e bentorni sul mio canale, oggi di nuovo sul C, praticamente oggi volevo farvi vedere il KV1 l'ho costruito tempo fa con il Panzer IV, ho fatto un unico diorama invernale, qua ci mi dicevo un po' che è finito perchè la Winter Camouflage, poi come ho fatto tutto il KV1 ci è voluto del tempo perchè, come potete vedere ho detto la Winter Camouflage perchè sotto avevo fatto troppa ruggine e il metallo saltato, di conseguenza ho voluto ricoprire un attino con questo colore bianco per evitare che fosse troppo, e niente, ho fatto il quattro item, me l'ho ottenuto ancora di più e poi basta fondamentalmente, volevo farvi anche vedere le modifiche fatte perchè in Normandia questo l'ho fatto tutto aperto perchè ho scoperto che quella che avevo fatto io con il Darkiello Tamiglia era del Pacifico e ho aggiunto un omino qua, non so se si vede, che sta tenendo le munizioni al tizio, poi qua c'è il tizio con il M43176W che è bellissimo, è giunto una Browning che è un tizio che ce l'ha, e niente raga non ci sia molto più da dire, poi ragazzi via avanti magari vedremo qualcos'altro ok, rivederci